Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Sivio Berlusconi è diventato vegetariano. La notizia è stata lanciata tre giorni fa dal Corriere della Sera ed oggi c'è chi ipotizza che questa svolta VEG dell'ex Presidente del Consiglio potrebbe addirittura far crescere il suo elettorato. Addirittura Alessandra Ghisleri, sondaggista di riferimento di Berlusconi, ha commentato nemmeno le notizie sulla celebrazione del trentesimo anno di presidenza berlusconiana del Milan hanno suscitato così tanto interesse. Ma secondo lei l'elettorato di Forza Italia potrà davvero crescere grazie a questa scelta oppure no? Per me è un gioco, lo buttano di più. Cosa? Secondo me lo buttano di più la gente, lo danno il voto di più. Perché ha detto che è vegetariano? Sì. Secondo me come mai la gente tenderà a votarlo di più proprio per questo motivo? Perché la gente forse lo crede di più lui che Renzi. Quindi se Renzi mangia la carne si vota meno Renzi perché mangia la carne, mettiamola così. Sì, sì, così, è così. Secondo me perché questa notizia ha fatto così tanto il giro del mondo? Ne hanno parlato addirittura negli Stati Uniti. Perché la gente è interessata a sapere che Berlusconi è vegetariano? Eh non lo so, non lo so questa domanda. A lei interessa saperlo, a lei interessa come notizia? Eh sì, sì, sono cittadino anch'io, sono cittadino italiano, mi interesso anch'io, sono senza lavoro. Questi problemi sono al mezziamo anche noi. Eh non è che solo interessiamo anche noi queste cose qua, anche noi dariamo il voto. Io dico che no. Come mai no? Non c'entra niente quello che mangia, dico, ma non credo che riesci a prendere voti di più. Secondo te perché tutto il mondo parla di questa notizia? Perché alla gente interessa sapere se via Berlusconi che è vegetariano? Così fa vedere anche al tv che è presente. È solo per questa. Quindi tu dici che comunque è una mossa pubblicitaria, cioè che Berlusconi ha dichiarato questo per farsi vedere, far parlare di sé. Sì sì, per questo, solo per questa. Così si vede di più al tv. Eh non è un'altra cosa. A te la notizia interessa? Sinceramente no. No no no. Ma per me fanno di tutto per farsi votare. Quindi sì, può essere. Può essere. Potrebbe anche essere che l'ha detto per farsi votare che in realtà continua a mangiare la carne di nascosto? Per me sì. Per me sì. Arriva a luterà in positivo quindi la figura di Berlusconi anche lei perché ha fatto questa dichiarazione? Oppure no? Oppure non considererà l'ipotesi di votarlo soltanto per questo motivo? Soltanto per questo motivo no. Io. Personalmente. Secondo lei perché la gente è così interessata a questa notizia? Ma perché la gente è interessata a tutto quello che fa ridere diciamo. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Grazie. Grazie.